Eccoci ritrovati amici di Di Pomeriggio, come abbiamo preannunciato ci è venuto a trovare il direttore generale dell'Asle di Terra, Maurizio Di Giosia, ben ritrovato direttore. Buonasera a tutti. Allora direttore questo è un momento particolare perché ovviamente si pensa soprattutto al Natale, però la questione della sanità è un argomento molto importante che ovviamente stiamo vivendo. La sanità dura 360 giorni. Esatto, non si ferma mai. E' uno di questi argomenti molto importante, come dicevamo, perché si parla sempre anche di carenza di personale, si parla di carenza proprio delle risorse. E l'Asle di Terra, ma noi le volevamo chiedere che situazione sta vivendo. Beh, noi alla stregua di tutte le altre Asle nazionali per quanto riguarda il personale ci sono carenze strutturali di alcune professionalità, è ben risaputo, non si trovano anestesisti, non si trovano medici per un soccorso, non si trovano pediatri e alcune altre figure. E tra l'altro non è che abbiamo delle prospettive buone perché anche alcune scuole di specializzazione non hanno iscritti nel nostro territorio, quindi questo per i prossimi anni almeno qualche difficoltà ce la darà ancora. Però ecco, noi dobbiamo, il nostro compito è quello di andare avanti, di cercare sempre di essere più attrattivi e far sì che anche persone, medici di fuori, cominciano a vedere l'Asle di Terra con l'Asle che dà anche delle prospettive di crescita professionale, di crescita come sanità che si va proprio a mettere in campo sul territorio. E questo dobbiamo però ringraziare anche la Regione che negli ultimi tre anni ci ha dato circa 75 milioni in più. Questo un po' rientra anche nella domanda che le volevo fare. Si è sempre parlato che l'Asle di Teramo è stata penalizzata negli ultimi anni sulla questione proprio economica rispetto alle altre Asle. Eravamo penalizzati, adesso con dati alla mano ci hanno ascoltato e si sono resi conto che noi avevamo un gap rispetto alle altre Asle a Bruzzesi, tant'è che siamo riusciti ad ottenere circa 75 milioni in più sul bilancio e ci hanno dato anche 6 milioni in più per, come possiamo dire, per l'incremento del fondo del personale, per assumere personale. Questo quindi ci ha consentito di superare questo divario storico di finanziamento rispetto alle altre Asle a Bruzzo, quindi di aumentare le prestazioni sanitarie, con quei soldi abbiamo anche acquistato prestazioni sanitarie attraverso l'attività aggiuntiva del personale medico e effettuare investimenti, tanti investimenti sull'attrezzatura. E' proprio uno dei problemi grandi che stiamo vivendo a livello nazionale, come giustamente diceva lei, è proprio questo ritardo nelle prestazioni. Certamente. E poi il Covid ha gravato tutto questo contesto. Il Covid ha bloccato nel periodo affermato, adesso le persone hanno necessità di cura, tra l'altro anche il Covid ha fatto sì che si debbano fare più prestazioni sanitarie al cittadino e il cittadino ha, ed è giusto che pretenda che ciò che serve per la sua salute venga soddisfatto nei tempi necessari. Il 2023 che anno è stato per l'Asle di Teramo? Per l'Asle di Teramo. Che comunque sono state annunciate grandi iniziative, grandi progetti, ma anche una riqualificazione importante. Abbiamo fatto una riqualificazione importante, abbiamo avuto l'assunzione di importanti figure apicali sulla cardiochirurgia, sulla radiologia interventistica, sulla chirurgia vascolare, cioè oramai stiamo completando tutto il quadro delle figure apicali che sono necessarie per dare una svolta anche sull'assistenza e sulla qualità dell'assistenza. E soprattutto stiamo mettendo in campo tutta una serie di attrezzature importanti. La settimana non me lo gioco oggi, abbiamo anche il robot a Teramo, però a giorni faremo una conferenza stampa dove andremo a presentare questo nuovo gioiello che oggi c'è a Teramo. Quindi comunque possiamo dire che negli ultimi anni c'è stata un'importante riqualificazione dal punto di vista anche della tecnologia? Certamente, abbiamo investito tantissimo sulla tecnologia, soprattutto vedo degli appunti perché sono tante le cose che abbiamo fatto, soprattutto abbiamo acquistato una ristoranza tre Tesla nuova a Teramo, una PET, abbiamo acquistato delle TAC nei presidi di Giulia, anche grazie ai fondi del PNRR e abbiamo acquistato, quindi hanno previsto 15 milioni e mezzo di investimenti, che sono stati fondamentali anche per l'ammodernamento di tutte le attrezzature tecnologiche che noi abbiamo e soprattutto di implementare nuove tecnologie. Abbiamo adesso, nel 2024, ogni ASLA ha la sua risonanza magnetica e la sua TAC di ultima generazione, quindi chiedo scusa, ogni presidio riesce a dare un'offerta sanitaria importante e questo dovrebbe, colmandolo con le carenze di personale, di radiologi che sono necessarie, ci permetterà appunto anche di intervenire sull'abbattimento di stessa attesa. Ma se lei che guardi indietro con la situazione prima del Covid, dell'ospedale di Teramo, dell'ASLA di Teramo e oggi, il Covid ha portato poi alla fine a potenziare di molto anche le strutture sanitarie? Il Covid ha potenziato le strutture, ha fatto sì che potessimo fare investimenti, però il Covid ha anche, come possiamo dire, ha inciso sul tenimento psicologico del personale, il personale dal Covid ne è uscito stressato, il personale dal Covid ne è uscito, come possiamo dire, ha dato tutto se stesso, in quel periodo è ovvio che adesso si fa sentire anche il fatto stesso che per alcune figure non siamo riusciti ad integrare con il personale necessario alcuni reparti, alcune strutture, ribadisco quello del pronto soccorso, come possiamo dire, che è il primo accesso dove il cittadino lì è il primo accesso che fa per l'ospedale, a volte si va in difficoltà, l'anestesia stessa a volte va in difficoltà, noi se avessimo qualche anestesista in più riusciremo a dare un'offerta maggiore per quanto concerne gli interventi, soprattutto quelli oncologici che sono rimasti un po' indietro con il Covid. Ok, però questo poi diventa un problema nazionale, è un problema nazionale, ma è un problema che io ho modo di, faccio parte della Fiaso, quindi sento anche gli altri colleghi delle altre ASL e lì capisci che non è un problema solo nostro, è un problema di tutti. Direttore, in questi giorni ovviamente un argomento al centro un po' di tutto la questione sanità è quello dell'approvazione della rete ospedaliera. L'opposizione a livello regionale ha attaccato molto dicendo che l'ASL di Teramo continua ad essere penalizzata, lei come la vedi visto che la conosce da dentro? Guardi, io le parlo come direttore già di una ASL da cui lavoro dall'89, quindi conosco come si è evoluta questa ASL. Ho fatto il direttore amministrativo con Fagnano che era stato nominato dalla precedente giunta, quindi giunta di centro-sinistra, io oggi faccio il direttore con una giunta di centro-destra e sentire dire che i direttori sono delle lunga mano di chi, della politica, io sono un professionista come tanti altri in Italia fanno il direttore generale, noi dobbiamo dare la sanità, guardare la qualità della sanità, guardare l'offerta sanitaria che viene data al territorio, questo è il nostro lavoro, a prescindere di chi è la politica di riferimento, il nostro obiettivo è quello di lavorare, di impegnarci a lavorare per dare risposte sanitarie ai cittadini e secondo noi, io da come la vedo, è ovvio si lamentano perché le persone guardano la WOC, perché non c'è la WOC c'è stata una diminuzione del presidio di riferimento, io invece parlo di un altro aspetto, io devo guardare l'offerta sanitaria di tutta la situazione della provincia di Teramo, io sono ampiamente soddisfatto perché complessivamente tra tutte le ASL abbiamo una WOC in più rispetto al passato, una WOC in più, ci è stata data, dopo vi spiego meglio, ci sono invece ASL che hanno visto anche perdere 6 WOC rispetto alla precedente, a quello che c'era prima di questa approvazione di questa rete ospedale, alla precedente rete e sono soddisfatto soprattutto perché Teramo ha conservato la WOC in neurochirurgia e soprattutto Teramo ha una TIN, una terapia di intenzione natale e questo è scritto, non è che possiamo dire, questo è scritto con due posti letti ordinari, fa parte di una rete regionale, quindi la pagina 29 del piano è ben scritto che questa TIN fa parte di una rete regionale, anche se è una TIN di primo livello, però adesso noi non siamo più costretti, nel momento in cui il nascituro, la necessità di alcune tipologie di cure, prima dobbiamo prendere l'ambulanza e portarla all'acqua, adesso con il cosciente di questi due posti possiamo anche gestirli in una prima fase direttamente presso la ASL di Teramo, quindi la ASL di Teramo avrà la TIN, non è che non avrà la TIN. Ovviamente voi vi impegnerete affinché venga attivato il primo possibile. Io entro il 2024, appena la regione ci dà il via per poter fare gli atti aziendali, metterò in campo subito la TIN, immediatamente, è uno dei primi atti che metteremo in campo, sicuramente nel 2024 dovrebbe entrare in azione la TIN. Visto la sua presenza qui, è anche per me un'occasione del giornalista un pochettino chiederle, visto le polemiche che ci sono state negli ultimi mesi, si è parlato di un depotenziamento dell'ospedale di Atri, di un depotenziamento dell'ospedale di Sant'Omero, lei come la vede? Oggi come oggi nessuna struttura è stata toccata, tutte le strutture che c'erano prima ci sono oggi, adesso vediamo quello che succederà con la nuova rete ospedaliera, è ovvio che dobbiamo tenere conto anche dei criteri che vengono stabiliti a livello nazionale, cioè ad esempio se in Abrucci possono stare x chirurgie, non è che possiamo mettere chirurgie WOC, però non è che vengono a mancare la struttura, come possiamo dire il reparto, il reparto c'è, che non è WOC ma WOSD, non cambia nulla, io se potessi decidere io la struttura da dare un'azienda, io farei una WOC solo nel Lab, le altre tutte WOSD, in maniera che possano ruotare il personale tra tutti e quattro i presidi, perché l'obiettivo nostro non è stato quello di andare a vedere le WOC, ma è stato quello di creare una rete, perché se vogliamo mantenere in vita quattro ospedali nel giorno di 50 km e farli produrre, dobbiamo caratterizzarli, dobbiamo dargli una vocazione, dobbiamo far sì che siano operativi, che siano da satellite all'ospedale Hub, perché gli interventi più importanti non possono essere fatti negli piccoli ospedali, perché manca la neurochirurgia, perché manca la chirurgia vascolare, perché manca la neurochirurgia interventistica, l'offerta sanitaria va vista nel suo complesso, gli ospedali SPOC devono servire a integrare quelle attività che non vengono fatte nell'ospedale Hub, a rafforzare l'attività dell'ospedale Hub, se tutti volessero fare interventi ad alta specializzazione, tumori eccetera, chi li farebbe le colicisti, chi li farebbe le ernie, i cittadini andrebbero nelle vicine Marche a farsi che glieli fanno il giorno dopo, invece no, ogni ospedale dovrà essere caratterizzato per un'attività, come ad esempio a Giulianova, che prima c'era una WOC di ortopedia, adesso c'è una WOS diretta dalla WOC di Teramo, lavora più Giulianova che Teramo, perché il primario ha modo di organizzare la sua attività nel migliore dei modi, distribuendo le attività chirurgiche come meglio crede, facendo sì che Giulianova faccia un'attività operatoria programmata e a Teramo riservando gli interventi più qualificati e gli interventi di urgenza e soprattutto i politraumi, che non possono, come ripeto, essere gestiti nei presidi SPOC. Noi abbiamo pensato con questa nuova rete ospedale di creare una rete territoriale, una rete aziendale importante, non sminuendo anche l'attività che andrà a fare sul territorio, perché la prossima partita sanitaria si vincerà con il territorio potenziato, se noi non potenzieremo il territorio l'ospedale non ce la farà, perché l'ospedale è l'ultima razza, l'ospedale è per acuti, quindi tutta l'attività sanitaria dovrà essere improntata, incentrata sull'attività territoriale, sulla presa in carico del paziente, saperlo prendere, evitando le inappropriatezze. Quante persone vanno a fare TAC che non servono? Quante persone vanno a fare attività che non serve? E dopo questa attività va a comprimere quella di chi effettivamente ne ha bisogno. Quindi va rivisto tutto l'assetto sanitario potenziando fortemente il territorio, potenziando la medicina di base, che deve essere parte integrante del sistema sanitario. Quindi direttore, il 2024 è un anno molto importante perché bisognerà anche iniziare poi per la questione del nuovo ospedale? Certamente, se noi non facciamo il nuovo ospedale forse non ci rendiamo conto che significa perdere non fare l'ospedale a Teramo. Fare l'ospedale a Teramo significa, noi adesso non è che stiamo abbandonando, visto che è il contenitore, noi al contenuto ci stiamo pensando in tutti i modi, prendendo noi primari, comprando tecnologia, ma se non facciamo una struttura adeguata ai tempi, che ci consente una realizzazione del personale, delle spese, un ospedale energivolo che produce anche energia perché abbiamo visto dove sono andati i costi energetici in quest'ultimo periodo, abbiamo visto quanto di spegno di personale c'è un'organizzazione non più adeguata ai tempi, gli assetti organizzativi cambiano, noi ci dobbiamo adeguare, l'11 di gennaio faremo un grosso convegno a termine sull'ospedale del futuro dove interverranno esponenti di rilievo nazionale a parlare di come dovrà essere organizzato l'ospedale del futuro, a prescindere dal contenuto, ma il contenuto è anche importante perché l'ospedale di oggi non è più adeguato ai tempi e non è adeguato, è adeguabile ai tempi. Direttore io la ringrazio, purtroppo il tempo è terminato, vuole fare un augurio di Natale agli amici e ascoltatori? Certamente, ci tengo tanto a tutti i vostri ascoltatori e soprattutto a tutti i cittadini della provincia di Teramo. Della provincia di Teramo, è ovvio, io sono di questo territorio, ci metto la faccia su questo territorio e mi auguro di poter dar loro una sanità migliore, una sanità che soddisfi i bisogni di salute. Ce la metterò tutta e questo è il mio compito e questo farò. Grazie mille al direttore generale dell'ASA di Teramo, adesso diamo la linea a Valentina Sacco per un convegno che ha seguito in prima persona dedicato alle aree montane. Grazie mille al direttore generale dell'ASA di Teramo, adesso diamo la linea a Valentina